Io volevo chiederti, sei partito molto molto bene, poi nell'ultimo mese hai fatto forse un pochino più fatica. Come valuti questo momento tuo attuale e se ci sono delle difficoltà? E poi se è possibile una curiosità, a fine partita dopo il Milan Mancini ci ha detto che il rigore dato su Ibrahimović in Premier sarebbe stato considerato quasi ridicolo. Insomma si sarebbero messi a ridere, tu che vieni dalla Premier la pensi così? Tami, hai fatto un buon start per la season, ma in ultimo mese hai struttosto un pochino. C'è un pochino? C'è un pochino? C'è un pochino? E per il Milan, dopo il gioco Mancini ha detto che il nostro Mancini ha detto che il nostro Mancini era dietro, una prezziata di Ibrahimović in Prenica. Ah, a riguardo il penalti di Ibrahimović, Mancini ha detto che in Premier League sarebbe stato un pochino un pochino per il mondo. Qual è la tua opinione? Come si arrivi dalla Premier League? I think in football, you know, you have times where there's good times and there's bad times. I think you learn about yourself and your team, you know, when you're going through bad times. And for me, someone of my stature, someone of my calibre and, you know, a lot of the leaders in the team, you know, this is the best time for us to show our quality, to show our leadership and to help the team as much as possible. Of course, you know, everybody wants to have the best season and win every game. But, you know, you have bad times and this is one of them. And, you know, it's about how we overcome this. And for the decision on the pitch about the penalty, you know, things happen in football. The referees are under so much pressure in games and, you know, they're human. There's human errors, but, you know, it's not my decision to say, of course, you know, as a Roma player and as a Roma fan, of course, I don't want these decisions going against us, but, you know, these things happen in football. Ma, nel calcio capita di avere alti e bassi, momenti buoni, momenti peggiori, ma è proprio nei momenti peggiori che si impara di più di se stessi e della propria squadra. Per quanto riguarda me, un giocatore del mio calibro, inserito in un contesto di squadra con tanti leader, beh, questo è il momento migliore per dimostrare la leadership e cercare di aiutare la squadra è chiaro che ognuno vorrebbe giocare la stagione perfetta tutti vorrebbero vincere tutte le partite ma capita di attraversare momenti difficili e questo è il momento di superarlo per quanto riguarda la decisione arbitrale dell'ultima partita mi limito a dire che gli arbitri sono sotto una pressione enorme che commettere degli errori è umano è evidente che in quanto parte in causa il calciatore della Roma non vorrei che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi ma capita buongiorno volevo chiederti come stai fisicamente dopo l'infortunio che hai riportato in nazionale visto che hai avuto un problema la curiosità che mi viene è sulla tua partecipazione emotiva all'inno della Roma che ha fatto piacere a tanti tifosi mi piacerebbe sapere cosa ti trasmette l'inno visto che in campo fai capire di essere molto coinvolto grazie due domande per voi come sei ora in termini di fitness di forma di formazione dopo la minoria con il nazionale e riguarda l'anthema dell'anthema dell'Aes Roma come hai partecipazione, sei emozionamente involuati, e i suoi studenti molto appreciano. Quali senti ti senti quando si cantano l'anthema? Perciò, tornando alla questione che hai detto, sulla squadra di un'assistente con il nationalista, va diventare meglio. Ho avuto un'assistente per un'assistente, e ho avuto un'assistente di un'assistente qui a volte, ma comunque è un'assistente che voglio sempre aiutare la squadra. so I don't let injury get in the way of me helping the team so for me I don't like excuses but every footballer wants to play with no pain and 100% but sometimes in football it doesn't work like this but the physios, the staff, everybody's looking after me so hopefully I'll be back to 100% soon and with the Roma chant and the songs I think since the first day I fell in love with Roma since the first day I got here and as you can see when I'm on the pitch I'm so passionate about the club and the way they've made me feel they've made me feel like I've been here for so many years so I have to repay them with performances and show how much I would do anything for this club and hopefully it continues as players we need the fans as much as possible to support us but of course we need to perform on the pitch to show that we care about the club but then again it works both ways Yes, per quanto riguarda l'infortunio con la Nazionale adesso le cose vanno meglio ho avuto qualche problema alla caviglia qualche altro problemino però ecco io sono un giocatore che vuole esserci sempre che vuole aiutare sempre la squadra e quindi in qualche modo mette da parte anche qualche problema fisico ma ecco sono un calciatore al quale non piace avere delle scuse ma è chiaro che qualsiasi giocatore vorrebbe sempre giocare al 100% della condizione fisica senza dei dolori ma anche grazie all'aiuto dei fisioterapisti di tutto lo staff medico spero di poter tornare al 100% il prima possibile quanto all'Inno della Roma beh, mi sono innamorato di questo club dal primo giorno quando sono in campo credo che questo si veda bene è anche il mio modo per dimostrare la passione per questo club per come mi hanno fatto sentire fin dal primo giorno è una squadra che ha investito molto su di me quindi sta a me ripagare con le prestazioni la speranza è che i tifosi continuino ad aiutarci e sostenerci sempre è chiaro che noi dal canto nostro dobbiamo rispondere con le prestazioni in campo per dimostrare quanto teniamo a loro e a questo club pastore, giovanissimo ciao, buongiorno ciao, buongiorno volevo sapere quali difficoltà stai riscontrando nel passaggio dalla Premier League al calcio italiano rispetto anche a quello che ti chiede Murigno di fare in campo è chiamato se ti chiede sulle difficoltà di cambiare l'italiano con riguardo a quello che ti chiede Murigno di fare in campo rispetto a quello che ti chiede rispetto a quello che ti chiede l'italiano rispetto a quello che ti chiede rispetto a quello che ti chiede non direi che stia attraversando delle difficoltà in termini di ambientamento il calcio comporta sempre delle sfide per me in particolare che ho cambiato campionato, paese tipo di calcio per quanto riguarda il rapporto con il mister ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in Inghilterra di allenarmi con lui in qualche circostanza direi che è di nuovo un contesto di sfida un contesto nel quale si impara ogni giorno tutta la squadra si sta conoscendo ogni giorno nel momento in cui avremo acquisito completamente quelle che sono le richieste e la filosofia del mister noi saremo una grande squadra fino ad allora dovremo continuare a lavorare duro ci stiamo conoscendo sempre meglio ogni giorno del resto, voi lo sapete meglio di me si dice che Roma non è stata costruita in un giorno A proposito di sfide tu vieni dalla Premier League non sono molti i calciatori inglesi che sono venuti a giocare in Italia ancora meno quelli che hanno avuto successo in Italia ti aspettavi, a prescindere dalle difficoltà personali un campionato anche così chiuso tatticamente perché in Inghilterra sembra che ci si diverti di più a giocare a calcio è questo un problema d'ambientamento che stai trovando? Sì, parlando di sfide c'è alcuni giocatori che hanno deciso di giocare in Italia e anche alcuni giocatori che hanno avuto successo ti aspettavi di trovare un giocatore di giocatore in modo di trovare un giocatore di giocatore in modo di trovare un giocatore in Inghilterra dove gli giocatori sembra di giocare più e questo è una parte delle strutture che hai avuto adattare in Italia? Io credo che quando ero in grado di giocare contro gli italiani soprattutto quando ero in una squadra quando ero in una squadra contro gli italiani è una cosa che ho appena è molto difficile di ridurre gli italiani è una cosa che ho sempre aspettato è una cosa che ho aspettato e per me questo è il risultato sono ancora più stile e questo è un altro domadino è un'esperienza di sviluppare è di sviluppare su un'altraca e ovviamente mi sono in grado di English allo dove si sono molto aperto e più umili perché hanno venuto la squadra e hanno non sono succesi come sulle ma per me è una learninga è una cosa che ho imparato per me è un problema dei suori di team e di le di usare e usando la strumentazione against la squadra quindi è qualcosa che ho imparato ogni giorno ogni giorno Ci prenderà il tempo, ma è qualcosa che sto aprendendo, non sono una persona che si riuscirà da un'opportunità, quindi sono felice, credo che ci sono molte cose buone. Sapevo quello che mi sarebbe aspettato, conosco benissimo la solidità delle difese italiane, era quello che mi aspettavo, ma credo che questo faccia parte del mio processo di apprendimento, di crescita. Sono ancora giovane, è chiaro, vengo da un calcio più aperto, da un calcio più propositivo, più offensivo, con spazi più aperti. Fa parte del mio processo di crescita, imparare a conoscere quali sono i punti deboli di certe squadre, di certi giocatori, è un processo che richiederà del tempo, ma non sono il tipo da recedere da sfide come queste e sono sicuro che verranno in futuro cose molto belle. Volevo chiederti se sinceramente pensavi di poter perdere 6 a 1 una partita del primo girone di Conference League e se domani basta vincere, anche 1 a 0, oppure sentite di dover dimostrare qualcosina in più contro un avversario che vi ha messo così tanto in difficoltà. Ma pensavi che avessi che avessi poter perdere 6 a 1 una partita del primo girone di l'anno di conferma? Ma pensavi che avessi poter perdere 0 a 0? Ma pensavi che avessi poter perdere? D'accordo, si avessi provo che non si aspetti mai a perdere, non lo voglia di perdere. La cosa che vengavamo per noi è stato un grande disgusto. we're better than that and we're better than what we showed that day so I think tomorrow is a perfect game it's the right step to go out and give a performance and show that we're really we're really here to fight and you know give it to them, they're a top team but we're also a top team so I'm expecting a good game tomorrow and I think if we're at our best and they're at their best I think hopefully we can get the win and a win is what we need It's evident that when we're in the field we don't expect ever to lose and we're never going to lose and we're not in that way the game is really a part a little bit negative tomorrow we have the opportunity to show what we really want because we're not sure that we're in the game it's an opportunity to let it to put things in place affrontiamo un'ottima squadra come abbiamo già visto mi aspetto una bella partita e domani giochiamo senz'altro per la vittoria perché è quello di cui abbiamo bisogno Volevo chiederti se vorresti tirare il prossimo rigore quando verrà affischiata a favore della Roma, visto che ti è riproposto in campo già nel derby e soprattutto a Torino con la Juventus. Would you like to take Ice Roma's next penalty kick since you tried to take one in the derby and then especially against the Juventus in Chul? No, you know, for me, as a striker, you always want to score goals. I think in the heat of the moment, you know, I feel like with the confidence and winning the penalty, I felt, you know, at the time, you know, I felt like I could score the penalty. But, you know, in before games, you know who's on the penalty and, you know, Jordan Veritutu is on the penalty. But, you know, he's someone who always scores penalties. I think, you know, on the day, there was a little bit of pressure, but he always deals with the pressure. So, you know, hopefully, I'll be on them soon when I'm when I'm scoring a lot of goals. But till then, you know, Jordan's our penalty taker. So he takes them. Well, no, I, in quanto attaccante, vorrei sempre segnare. In quel momento sentivo di avere fiducia a Torino, avevo appena conquistato il rigore ed ero pronto a calciarlo. Ma prima delle partite, ecco, non sappiamo bene qual è la gerarchia dei rigoristi. Tra l'altro, Jordan è un rigorista straordinario. Era un momento un po' particolare. C'era pressione per tutti. Però, ecco, io spero di tornare a fare presto dei gol e che Jordan continui a calciare i rigori bene come fa. C'era un collega Norpecchese che voleva fare una domanda. Hi, Sindra Murtnett from NRK. I was wondering, were you surprised by anything during the last match against Bode Glimt? And how have you worked as a group to strike back? You described it as a disgrace. I think the best way, I think the best way to approach a game like this is to have full confidence in the team. You know, we're expecting a very good game, as I said before. I'm expecting a good game. So we have to be ready. We know they're not just going to come and, you know, just let us win. So, we have to be at our best. And, you know, it's a game I'm very excited for. And I'm sure the rest of the team are very excited for. Sì, la domanda se in qualche modo la Roma è stata sorpresa nella gara di andata e in che modo si è preparata adesso per replicare quella sconfitta che è stata per la Roma per tanti versi umilianti. Beh, il modo migliore per prepararsi è quello di lavorare con fiducia, fiducia nella squadra, nel collettivo. Come dicevo io, ma tutta la squadra domani si aspetta di giocare una buona partita. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere, giocare, giocare al nostro meglio e cercare di voltare quella pagina definitivamente. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie.